La solitudine Ero circondato da vuoti che non mi davano il piacere di vivere. Non ero contento di chi mi circondava. Cosa devo fare? Mi chiedevo. Nulla. Devo solo darmi da fare e cercare quello che di più bello mi viene nella mente. Così pensando ho cominciato a divertirmi con quello che mi capitava. Dalle cose più semplici, alle più complesse. Variato continuamente per non morire. Scoprivo dentro di me quello che non conoscevo di essere. Cominciavo a dare tanto al mio spirito e mi accorgevo di essere tanto felice con ciò che mi raccontavo. Era così bello che mi preoccupassi di perderlo. Ma i momenti variano. E così cercavo di modificarmi continuamente. Finché la mia fantasia me lo concedeva. Non ero più solo. La paura di esserlo si allontanava. E mi sentivo così ricco da poter trasferire la mia ricchezza ad altri che la desideravano. Conclusione. Non bisogna abbandonarsi di fronte ai problemi. Bisogna sempre scavare nel proprio ego. Per vedere quello che più ci rende concreti. Grazie. 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 Grazie.